Dividiamoci, cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro, vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Vite andare a chiederle se sa qualcosa del vostro emicolo. Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd. Io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Ogni tanto riuscivo a convincerla a venire con me. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara?